Finalmente c'è un'ammissione ragionevole di quello che noi sosteniamo da tempo, diciamo da nove mesi ma anche più tempo insomma che abbiamo segnalazioni continue su queste missioni d'origine. La prima interrogazione sui cattivi odori presenti in alcune parti della città a nome del Partito Democratico era stata presentata in Consiglio Comunale il 27 ottobre 2022, dunque esattamente nove mesi fa. Adesso AISA impianti, a seguito di numerose segnalazioni ricevute sui cattivi odori e tenendo conto anche del fattore climatico estremo, ha richiesto alle autorità competenti di ridurre il conferimento del rifiuto organico. E' anche vero che è in controtendenza con un progetto industriale che invece prevede l'ampliamento da tempo, da anni, senza che ci sia una sana discussione soprattutto evidentemente con qualche problematica professionale non indifferente. Quindi monitoriamo, vediamo, c'è una richiesta, vediamo se questo avverrà. Il Partito Democratico, assieme alle altre forze politiche di minoranza, torna così a chiedere un Consiglio Comunale Aperto da svolgersi però fuori dal Palazzo Comunale al centro di aggregazione di Chiani in orario serale per favorire la massima partecipazione dei cittadini. Per diversi motivi, il primo è per prendere contatto con la realtà e con il problema, il secondo è anche per rassicurare se ci sono gli estremi ed è doveroso rassicurare la popolazione rispetto alla problematica, che chiaramente è una problematica che insiste sia da un punto di vista d'origine ma rilascia anche l'idea che uno studio olfattivo e uno studio sanitario debba essere fatto, uno studio certificato, anche questo lo chiedevamo da tempo e quindi insomma che ci si presenti in loco a oggettivamente a rassicurare la popolazione sia sulla tipologia del problema e soprattutto a dare tempi e soluzioni chiare per questo problema che non può più essere in evaso.